Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi abbiamo una schiena nuova che si è stata volontaria, e andiamo a fare un po' di rovini che adesso vi spiegherò, e siete pronti? Anche la parli in cui faremo tracing sul tatuaggio, e se vi piacerà, ditemi se vorreste un video dedicato al tracing su dei tatuaggi di linea 6, 7, 6, 6, 6, e niente, adesso vi faccio un po' vedere, e godete il video, ciao! Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi come te l'ho richiesto, un altro video massaggi, questa volta abbiamo una schiena diversa come vedete, anche solo il tatuaggio, oggi abbiamo oggi faremo un po' di back scratching, quindi un po' di grattini con le unghie, poi un po' di grattini con le gratta schiena, in questo modo, mi piace molto quando si va verso il collo, anche così, poi, visto che ci sono dei segni dell'abbronzatura, andiamo a mettere un po' di grattini, e poi ovviamente andiamo a mettere un po' di grattini con questo tipo ventagno, super morbido, che secondo me è perfetto, quindi, io direi che possiamo cominciare, e cominciamo con un semplice micro massaggio, anche verso il collo, anche verso il collo, ti sto tagliando un po' di pelle, non fa niente, anche io, vedete, anch'io sento a montatura, e dopo farò anche un pochino di tracing qui sopra, perché è un tatuaggio stupendo, e ovviamente nel modo da ricalcarlo, non posso non approfittarne, non lo vedrete, ma scritto pantare qui, e poi anche delle farfalle qui sotto, non lo vedete, qui, partiamo con, proprio applicando pochissima pressione, qui, e poi scendiamo, qui, e poi scendiamo, mi piace tantissimo anche seguire la corona vertebrale, prendiamo il primo pennello, e partiamo dall'alto, e andiamo lentamente, a uno spazio, lentamente, lungo un'altra, ti vedi un brividino? Sì, andiamo su, lungo il tatuaggio, e poi lungo tutta la schiera, non sto applicando tanta pressione, in modo che sia un mezzo massaggio, un mezzo solidichino attrazzante, e anche se parliamo del collo, quindi facciamo la stessa cosa, andiamo nell'altra spazio, in modo che non risponde, e quindi facciamo la parola, e quindi facciamo la parola, in modo che non si può fare la parola, Sì E adesso vediamo se ora ne metterò un po' di crema qui sopra Adesso prendo questa crema che è al latte verde, che è un tipo di luce Che ha un odore anche molto bello ed è abbastanza corposo, non troppo ma neanche troppo di quello E partiamo con un pochino e poi nel caso ne aggiungiamo Toglio tutti i capelli e comincio a spalmare C'è un amore tondo di più Allora Adesso andiamo un po' qui sotto E dall'altra parte Approfetto il fatto che la crema sia un po' peggie cosette però Farvi sentire la dita sulla schiena Allora 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 First Allora 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 Srape Allora Questo Allora Allora E adesso di nuovo sono indecisa però di grattaschieno il pennello, tu cosa preferisci? Grattaschieno? Il grattaschieno? Questo qui viola? Questo qui? Quello che è stato prima? Ah ok, l'ha scelto lei Bene, cominciamo Ho un attaccato a una di capelli Io sono strafissata con questo punto perchè è uno dei punti che mi allassa di più D'accordo? Di bubbi? Di bubbi? Di bubbi? Di bubbi? Di bubbi? Bebbi? Di bubbi? Ora in mezzo e per l'altra parte Questa è letteralmente tipo una taschina Oppure secondo me può essere usato anche quando si ha un gesso e si si deve irattare da qualche pari non posso dire meglio più tanto Ma mi faceva un brurito il corso al cariglia E adesso un po' caldo, proviamo un po' di onde Questa è un po' caldo E un po' caldo E un po' caldo Questa è un po' caldo E adesso per concludere e faccio il tracing sul tatuaggio e poi la buonanotte adesso andiamo a fare del tracing preciso sul tatuaggio con questa pezzina che in realtà è per fare le punte dello smalto dei puntini dello smalto bello complicato intanto provo a spiegarvi cos'è è una lingua esotica la legge mi dice è una specie di sottolingua del polinesiano tailandese tailandese ed è un auguri di buona vita in 1, 2, 3, 4, 5 campi diversi come amore lavoro immagino giusto famiglia è stranissimo provare a capire non so come anche sia composto una parola o una lettera perché è totalmente diverso rispetto al nostro alfabeto terza ad esempio secondo voi questi qui sono di questa riga di questa soprattutto questi qui non è sempre ok andiamo al quarto andiamo al quarto un quarto cos'è il mio cuore un quarto e un quarto e un quarto e un quarto ok ok cosa notara ok 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 e tu ecco qua ok direi che è giunto l'ora di abbassare le luci e a curarvi, a curarvi, a curarvi una notte e soni tor or or good night buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte pastigini un bacione che li spero buona notte Grazie.